Come vi abbiamo già raccontato ieri, oggi era una giornata molto importante. Abbiamo infatti incontrato Farage per cominciare a mettere le basi per costituire questo nuovo gruppo che porterà avanti le nostre idee e le nostre proposte. Adesso siamo qui con il nostro capogruppo che ci racconta com'è andata. Buongiorno a tutti. Come diceva David, abbiamo appunto stamattina conosciuto, incontrato Mr. Nigel Farage, alcuni altri deputati dell'UKIP e alcuni collaboratori. È stato appunto un buon incontro in cui ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati le nostre esperienze sulla politica nazionale e abbiamo appunto buttato giù l'agenda per quella che è la formazione del gruppo. È stato appunto un incontro molto interessante e credo che questo gruppo farà molto bene nel corso di questa legislatura. Dopo aver incontrato appunto Mr. Farage e gli altri deputati abbiamo incontrato una deputata lettone che fa parte appunto di un partito di contadini verdi e che ha come obiettivo quello appunto di creare un gruppo che si fondi sulla democrazia diretta. Allora insomma noi abbiamo detto che con noi si fondi una porta aperta e abbiamo raccontato quello che facciamo in Italia con la democrazia diretta e lei è stata super entusiasta appunto di iniziare questo percorso con noi. Per cui presumibilmente noi metteremo la democrazia diretta al centro della nostra azione politica qui in questo gruppo che si sta costituendo.